Pagio Rinaldi, più giovane ovviamente, Tottor Assini paga anche gli acciacchi dell'età, pallacorta di Bruno, Lawani per la prima volta chiamato, in attacco, ma la difesa di Bruno gli dice di no, punto diretto, più forte forse del campionato, Bruno Ressori. Sicuramente il difensore più forte di questa fase di campionato, non cade nulla, torno a lui, clamorosa il giocatore.